Il punto di vista della collega giornalista, capisco ovviamente il punto di vista dell'Ucraina, che è un paese che è stato aggredito e quindi è chiaro che vorrebbe uscire vedendo la morte di Putin e dell'aggressore, è normale, ok? Il problema è che la mediazione non è possibile in questi termini, cioè purtroppo la pace non è un termine assoluto, è una pace relativa, è la pace possibile, che passa attraverso una mediazione. La mediazione presuppone non soltanto che Putin si sieda, ma che Putin abbia un qualcosa di quello che egli vorrà, perché altrimenti da questa situazione non usciamo. La mediazione non è il più bel risultato del mondo, è il punto di caduta di una situazione che non si deve ammalorare ulteriormente, che si deve aggravare ulteriormente. Chi pensa di poter escludere Putin completamente o lo fa fuori militarmente, questo vorrebbe dire avere una guerra che è lunga nel tempo, drammatica, con un'opzione nucleare che diventa realtà e quindi io penso che sia da scongiurare nella maniera più assoluta, oppure la fai attraverso una mediazione. La mediazione purtroppo, lo dico, purtroppo presuppone un ruolo attivo anche da parte di Putin, del cattivo della storia. Scusa, per favore Guido, io penso che tu abbia ragione, nel senso che dobbiamo arrivare al punto di mediazione, però un po' dalla storia bisogna imparare. L'Occidente ha già chiuso un occhio sulla Crimea. Quando c'è stata l'invasione della Crimea, alla fine, come tu sai Gianluigi, mi metto sempre in dubbio le mie opinioni e cerco di essere obiettivo. La prova di lasciamola invadere quella parte così almeno si ferma è stata fatta con la Crimea, dicendo vabbè l'Occidente ha fatto finta di non vedere, gli ha lasciato prendere quella parte e poi vediamo così almeno chiudiamo il problema. Ha chiuso anche un occhio su alcune cose del Donbass, l'Occidente. Fino adesso quella cosa è stata provata, non ha funzionato molto, anche perché c'è un tema di cui noi non parliamo mai, che è la motivazione vera di questa guerra, che è molto meno nobile. Il Donbass è pieno di russi perché è la zona industriale più forte che esiste in quella zona ed ha avuto la stessa attrazione di russi come Torino l'ha avuta dei meridionali. Arrivavano lì perché lì c'era il lavoro ed è ricca di industrie perché c'è il ferro, c'è il nichel, c'è il gas e in tutta quella fascia che noi vendiamo dal Donbass, Mariupol fino alla Crimea e nel mare prospicente davanti ci sono risorse di gas naturali fruttate al 2% pari a quelle russi della Russia continentale. Quindi potenziali concorrenti. Tant'è, e sai, no no, vengo solo quella cosa che dicevi tu prima, racconto una cosa che diceva Sandra prima, perché poi in questa guerra mentre si distrugge tutto, no? Mariupol si combarda le città, il gasdotto non se lo tocca a nessuno, che è un gasdotto di cui noi prendiamo il gas, i russi lo vendono, di cui l'Ucraina prende il 4% come diritto di passaggio. E in questi giorni, mentre si tirano le bombe, le transazioni finanziarie esistono da una parte dall'altra anche quando si combatte. Per questo è per raccontarcela tutta, no? Per guardare tutti gli aspetti. C'ho detto, io penso che sedere al tavolo Putin, visto che l'esempio della Crimea non ha funzionato, poteva succedere solo se l'Ucraina, come ha fatto, si opponeva ad essere smembrata. Manca totalmente, secondo me, e questa è un'accusa grave, sia all'Unione Europea, all'Italia, agli Stati Uniti, al resto del mondo, l'altra parte. Perché mentre l'aiuti nessuno ti vieta ogni giorno di cercare in ogni modo di portarlo al tavolo, di costruire condizioni per sederlo a un tavolo di trattativa, usando l'India, la Cina, la Turchia, Israele, chiunque serva. Questo è il passaggio che manca, dove manchiamo anche noi. Perché guardate, dico una cosa molto dura dal punto di vista interno, tu hai sbagliato prima, io non rappresento, sono uscito dalla politica anni fa, non rappresento, fate l'Italia, se vuoi chiamo Giorgia Meloni, dopo lo dico di chiamarti. Ma ho rispetto della politica. E cosa manca in Italia? Che noi abbiamo scelto Maradona, pensando fosse Maradona un grande finanziere esperto di banche, ma cosa manca adesso? È uno esperto di politica, interna, internazionale, credibile. Non abbiamo bisogno di finanzieri per uscire, abbiamo bisogno di persone che abbiano una capacità di comprensione di cosa succede nel mondo e della politica, di credibilità. Che non si crea a Harvard, non si crea studiando, ma perché è un'arte ed è sempre stata considerata un'arte per i requisiti diversi. Possiamo dire un craxi di sigonella. Ecco.